Il signor Gioilo Mangino nel 1947 in un incidente si procura una brutta frattura di 7 centimetri appena sotto la fronte, perde il senso dell'olfatto e la vista, perde proprio i bulbi oculari. Lui viveva in America e nel 1963 all'incirca va da Padre Pio a San Giovanni Rotondo e si confessa con grande fatica. Dopo la confessione riceve una benedizione dallo stesso Padre Pio e comincia a sentire un forte profumo di rose. Recupera il senso dell'olfatto ma non la vista. Il suo compagno di viaggio gli dice adesso andiamo a Garabandal e lo mangino risponde ma come facciamo a sapere se sono apparizioni vere, autentiche. Allora va da Padre Pio e gli dice padre a Garabandal sta apparendo la Madonna e Padre Pio risponde sì sta apparendo. Quindi parte in Spagna, arriva a Garabandal, conosce le bambine, le veggenti e il 19 giugno del 1964 Concita Gonzales riceve in locuzione un messaggio e dice Gioi lo mangino durante il grande miracolo guarirà, recupererà la vista proprio fisicamente parlando. Le persone ci rimangono male perché quest'uomo è morto qualche anno fa e tutti giustamente hanno detto ma è impossibile che guarisca è già morto. Questo è lo vicino qui è insieme a Padre Pio e qui è a Garabandal con la veggente. Matteo 27 E Gesù è appena morto in croce siamo nella settimana santa e cosa succede? Ed ecco il velo del tempio si squarciò in due da cima a fondo. La terra si scosse. Ricordatevi le rocce si spezzarono, i sepolcri si aprirono e molti corpi, fate attenzione, di santi morti risuscitarono. Travignano Romano, aprile 2019. Figli, i morti si uniranno ai vivi per questa grande festa. Aprile 2020. Molti di voi saranno risorti, risorti dalla morte in questa terra. Presto i cieli si apriranno e il figlio di Dio, mio Signore, arriverà. 2019. Figli miei amati, vi meravigliate quando dico che accadranno cose incomprensibili. Ricordate che tutto ciò che ho predetto accadrà in questo tempo. Durante la settimana santa i morti sono risorti. Oggi tutto si ripete. Gioi Lomangino risorgerà e i suoi occhi vedranno. I messaggi di Travignano Romano quindi fanno comprendere anche l'aspetto più profondo delle apparizioni di Garabandal. Come vi ho detto prima, il miracolo inizierà un giovedì. Dopo arriva il venerdì della settimana santa. Gesù viene messo in croce dopo essere stato massacrato, flagellato, frustato e rapieno di sangue. 2017. Piccoli miei presto vedrete il grande segno apparire nel cielo. Sarà una croce rossa, rossa come il sangue versato da Gesù per voi. La croce illuminerà le coscienze, avvertirà l'umanità che siamo spirito, siamo esseri eterni con un'anima che può andare in perdizione. Ma avvertirà anche l'umanità perché sta andando incontro a vivere la sanguinazione e la crocifissione di Gesù. Quando Gesù è morto, come ho letto prima in Matteo 27, la terra ha cominciato a tremare. settembre 2020. Cari figli, tutto precipiterà, il cielo si tingerà di rosso, la terra tremerà, come non ha mai fatto prima d'ora. Poi Gesù è morto, è seso agli inferi tre giorni e tre notti, ha affrontato i demoni per liberare le anime dei giusti. Quindi arriveranno tre giorni di tenebre sulla terra. 2018. Quando i più terribili terremoti si scateneranno, ricordate che sarà il segno che Gesù sta per arrivare. Questo evento sarà anticipato dai tre giorni di buio. 2016. Nei tre giorni di buio prendete dalle candele benedette. Coloro che le terranno accese non verranno toccati dai demoni. Tutti i demoni saranno sulla terra per tre giorni. Dovrete chiudervi in casa, porte e finestre. I demoni imiteranno perfettamente la voce dei vostri parenti, dei vostri amici per farvi uscire dalle case. Voi naturalmente non aprite a nessuno. Procuratevi le candele benedette, soprattutto nel giorno della candelora, ma ricordatevi che se non avrete messo in pratica gli insegnamenti, le opere indicate da Gesù, non avrete luce e le vostre candele non rimarranno accese. Rivivremo tutte le fasi di persecuzione vissute da Gesù dopo Gesù tornerà.